Grazie a tutti. Non ce la si aspettava assolutamente, quindi la reazione è di grande stupore. Il produttore generale stesso con una richiesta molto argomentata aveva domandato alla Corte di annullare la sentenza della Corte d'Appello per l'aggravante di mafia, il che voleva dire che poi sarebbe rimasto a carico, accogliendo queste richieste, il produttore generale sarebbe rimasto a carico del senatore Cuffaro, semmai un unico episodio di favoreggiamento come del tutto sganciato dal mondo mafioso. Ho visto che lei ha appena chiamato probabilmente il suo assistito, il senatore Cuffaro, che le ha detto? Ha preso atto della sentenza. Questa mattina ha pregato? Non lo so, non l'avevo sentito prima. Ora che succede? Ora succede che si metteranno in moto i meccanismi per l'esecuzione della sentenza d'Appello. Dovrà finire in carcere il senatore? Direi di sì. Buonasera. Grazie. Buongiorno.